Una vetrina virtuale dedicata allo straordinario patrimonio agroalimentare italiano in occasione dell'Expo. È il portale Italian Quality Experience realizzato dalle Camere di Commercio in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero di Beni e Attività Culturali e Turismo e il Ministero dell'Ambiente. Attraverso questo strumento oltre 700.000 imprese della filiera allargata dell'agroalimentare potranno farsi conoscere e aumentare la propria visibilità con informazioni certificate per promuovere attività e prodotti, raccontando così la loro storia fatta di territori, tradizioni e talenti. È il modello vincente del Made in Italy che il sistema camerale contribuirà a promuovere con questa piattaforma, anche grazie a una grande campagna internazionale di comunicazione per raggiungere oltre 60 milioni di persone.